uno dei miti della fotografia oggi vive una nuova vita e vi parliamo di polaroid che ha creato oggi la macchina fotografica istantanea più piccola del mondo quella che vedete nelle mie mani polaroid go avete mai maneggiato una polaroid per coloro che hanno festeggiato qualche compleanno di troppo come me questo è un vero mito ovvero una macchina fotografica istantanea analogica in grado di stampare immediatamente l'immagine che viene catturata ora questo marchio rinasce ad una nuova vita e grazie ai suoi nuovi prodotti trova anche nuovi fan tra questi nuovi prodotti c'è anche la microscopica polaroid go facciamo subito una piccola premessa probabilmente non acquisterete polaroid per la qualità dei suoi scatti ma per la loro unicità ogni scatto di polaroid è irripetibile non è duplicabile e vi permette anche però di fare delle manipolazioni molto interessanti di cui vi parleremo tra poco fermi tutti però vi devo dire una cosa importante vi siete già iscritti al nostro canale se non lo avete ancora fatto fatelo ora e ricordatevi di riattivare la campanella e questa non è una gentile richiesta è un consiglio da amico allora torniamo a polaroid ve lo abbiamo già detto ma ve lo ripetiamo questa è la macchina fotografica istantanea analogica più piccola del mondo con un formato delle immagini che è ridotto del 40 per cento rispetto agli altri modelli in circolazione ci sono molti dettagli da scoprire di questo piccolo dispositivo ma prima di farlo dobbiamo mostrarvi un video dato un occhio e a questo video bisogna rispondere no non si fa non bisogna shake it like a polaroid picture non bisogna scuotere una foto polaroid quando la si sta sviluppando è protetta infatti da un materiale plastico che rende inutile questo movimento perché non c'è alcuna interazione con l'aria anzi si rischia di spostare i liquidi che sono fondamentali per lo sviluppo e quindi di rovinare il processo questo è il primo suggerimento importante che vi vogliamo dare per il mondo polaroid altro suggerimento che vi vogliamo dare è quello che succede immediatamente dopo aver fatto uno scatto vedete questa lingua di rana viene definita anche in questo modo che protegge la vostra fotografia non rimuovete immediatamente la foto lasciate per almeno 5 secondi se sono di più ancora meglio la vostra foto sotto la lingua di rana insomma sotto questa pellicola di protezione quando poi la togliete mettetela al buio oppure giratela verso il basso per completare il processo di sviluppo sulla confezione dei singoli pacchetti di pellicole viene indicato il tempo indicativo per lo sviluppo delle foto però con polaroid go la cosa più interessante è che potete fare cose davvero molto carine tra cui lo scatto con doppia esposizione che è un po come scattare due foto in una per utilizzare il metodo è molto semplice premete due volte il tasto del flash a questo punto vedrete un numero uno che lampeggia sull'indicatore e potete fare il primo scatto rivolgendovi al vostro primo soggetto quindi vedrete che compare un numero due sullo stesso indicatore puntate la seconda immagine che volete fissare scattate e il gioco è fatto questo vi permette di sovrapporre praticamente due immagini in una sola e non solo perché con polaroid potete all'occorrenza scattare anche un selfie e lo potete fare grazie alla superficie a specchio che si trova sul mirino potete trovare e usare anche la doppia esposizione anche quando scattate un selfie ma con una polaroid una delle cose più belle che potete fare è quella di elaborare le immagini di manipolare le immagini potete disegnare sulle immagini stesse mentre le state sviluppando o anche dopo il loro sviluppo potete separare la parte positiva da quella negativa date un occhio al sito myinstantlife.it perché Alan Marcheselli ha un sacco di istruzioni e di suggerimenti per voi per le manipolazioni che potete fare con le foto che sono davvero molto divertenti ecco se però per voi come per me questo tipo di interventi è un po complicato potete anche deviare verso la versione più semplice ovvero utilizzare gli stickers che sono all'interno della confezione che potete appiccicare sulle varie fotografie per dare un tocco personalizzato quando dopo aver appiccicato un po di adesivi e magari averli finiti vi sentirete pronti per il grande salto allora date un occhio a myinstantlife.it per avere un po di ispirazione sulle cose che potreste fare con uno scatto polaroid polaroid go è un oggetto davvero singolare e può regalare emozioni speciali perché sono uniche il mondo di polaroid non è quello degli scatti perfetti ma dei momenti importanti che diventano irripetibili e il valore di queste foto sta proprio nella loro unicità beh insomma con una singola carica sarete in grado tra l'altro di scattare foto contenute in ben 15 pacchetti di pellicole quindi sono circa 120 immagini a proposito ma voi sapevate che nelle vecchie polaroid invece la batteria stava nel pacchetto delle pellicole beh oggi non è più così si ricaricano facilmente con un cavo usb per oggi abbiamo finito ricordatevi di registrarvi al nostro canale di venire a trovarci anche sul sito mrgadget.tech e quando scatterete la vostra prima polaroid con polaroid go ricordate di non scuotere ciao a tutti